Finalmente è uscito anche da noi Marcel Deschel, il film d'animazione candidato ai Oscar di Dean Camp, o Camp, io lo chiamerò Camp. Chiaramente prima parte senza spoiler, seconda con gli spoiler, ma prima di iniziare dobbiamo fare, devo fare un cappello, perché in realtà il personaggio di Marcel Deschel non nasce adesso, ma nasce 13 anni fa, quando lo stesso regista decide di caricare un video sul suo canale YouTube di 4 minuti, dove per la prima volta appariva appunto il personaggio di Marcel Deschel. Questo video è proprio lo stile del quinto documentario, quindi cosa che riprenderà poi in questo film, e questo primo video fa un botto clamoroso, milioni di visualizzazioni, così come appunto accade anche in questo film. Seguono quindi altri due video, anche un libro se non sbaglio, e poi finalmente questo film, arriva a produrre questo film che ripeto riprende parecchie cose, anche intere battute proprio, sono uguali a quei video fatti in origine, ma crea una storia attorno, e la storia è proprio questa. Una conchiglia, quindi Marcel Deschel vive in una casa con la nonna, anch'essa una conchiglia appunto, una casa dove prima vivevano degli umani, questi umani poi hanno litigato, insomma si sono separati, erano un marito, erano due fidanzati, e la casa è rimasta abbandonata, è un Airbnb sostanzialmente, e loro vivono appunto segretamente, diciamo così, in questo Airbnb, e Marcel a causa di questo litigio proprio di due ha perso la sua famiglia e vorrebbe ritrovarla. Quindi poi da qui tutto lo sviluppo e non vi anticipo nulla. Dal punto di vista tecnico mi è piaciuto tantissimo, a parte l'idea classica, vabbè, del mo'commentario, che non è tanto quello, ma il fatto di mischiare live action e stop motion, e non live action e CGI. Io già ci avevo pensato, poi ho letto un'intervista, praticamente gli hanno chiesto appunto al regista perché avesse scelto la strada di mischiare live action e stop motion, una cosa molto complicata da fare, piuttosto che farlo con la CGI. Lui ha risposto che utilizzando la CGI al posto dello stop motion per rappresentare Marcel, si sarebbe perso quel lato autentico e vero di Marcel de Schell, ma sarebbe appunto sembrato finto, non sarebbe riuscito ad entrare nei cuori degli spettatori. E secondo me è vero, nel senso è riuscito appieno in quello che voleva fare, perché la prima impressione, io non la sapevo questa cosa, però la prima impressione proprio che ho avuto all'uscita della sala era che lui esistesse veramente, cioè che il personaggio di Marcel de Schell non fosse un'idea del regista, ma fosse un vero personaggio, fosse veramente esistito. Ecco, e questa è la cosa secondo me fondamentale con dei mockumentari, cioè Blair Witch Project secondo me non è un grande film, ma perché ebbe quel successo? Ebbe quel successo perché dal punto di vista del mockumentario fu un mockumentario clamoroso, cioè la gente credeva che fosse vero. Cioè era un mockumentario talmente fatto bene che la gente credeva, erroneamente chiaramente, che fosse realmente un found footage, cioè un video trovato di questi tizi, cioè che fosse reale. Ecco, e la cosa principale del mockumentario è proprio questa, cioè io devo credere che quello che sto guardando sia vero, ancor di più di quando guardo un film normale, ecco. E questa scelta di usare quindi lo stop motion e non la CGI è stata vincente. Poi parlando dell'idea, è originalissima, cioè una conchiglia con le scarpe che vive in una famiglia, cioè... È un'idea molto molto originale che non gli è venuta adesso, chiaramente, è venuta 13 anni fa, ma originalissima rimane, e quindi già questo è un punto a favore, ma poi mi è piaciuto molto proprio come ha raccontato la storia, cioè praticamente la conchiglia poi comincia a raccontare, perché è un documentario su di lei, no, è un finto documentario su di lei, su questa conchiglia, che poi di lui in realtà, perché è un maschio, e quindi lui racconta la sua storia, quindi la storia della sua famiglia, non parlando e basta, ma la racconta anche mostrando dei disegni che lui ha fatto dietro lo specchio della sua famiglia, di tutti i componenti, anche proprio il modo in cui ha raccontato la cosa, non semplicemente parlando, e sarebbe stato un modo pigro, no, di farlo. Invece ha trovato questi espedienti, secondo me, molto efficaci, e oltretutto è bello anche come sia stato rivoluzionato un intero sistema, no, la casa, questo Airbnb, totalmente rivoluzionato, per Marcel, no, per far sì che Marcel riuscisse a mangiare, a fare tutto quello che deve fare, quindi lui si muove in una pallina da tennis, usa una planetaria con un filo collegato all'albero per scuotere quest'albero e prendere i frutti di quest'albero, usa il miele per azzeccarsi alle pareti e tutto il resto, quindi mi è piaciuto molto anche come sia stato rivoluzionato l'intero sistema casa, appunto, chiaramente lascia sempre da un'idea del regista, per adattarsi a Marcel, o meglio, come Marcel abbia modificato l'ambiente per rendersi più facile la vita, che facile poi non è. Il film poi, secondo me, è quasi perfetto, mi spiego meglio. Cioè, è fruibile, secondo me, sia dal bambino che dall'adulto. Il bambino chiaramente si fermerà in superficie, vedrà solo le cose più immediate, mentre l'adulto potrà cogliere quello che c'è in profondità, cioè le sfumature di tutte le cose che vengono trattate, che sono anche tante, cioè la perdita, il passare del tempo, i cambiamenti, il concetto di famiglia, il ruolo dei social, il ruolo della tv, il ruolo del documentarista, cioè sono tantissime cose che vengono trattate in questo film. Quindi, il bambino ne percepirà il 50%, magari si commuoverà e tutto il resto, e tutto il resto, l'adulto ne percepirà il 100%. Quindi, secondo me, da questo punto di vista, il film funziona da entrambi i lati. Non voglio addentrarmi ulteriormente nella parte no spoiler, perché, secondo me, il film va anche scoperto, no? È un po'... Il film vi fa un po' entrare nella vita di questo Marcel Schell, no? Quindi, se poi vi dico troppo, vi tolgo anche il piacere della scoperta, ecco. Quindi, mi fermo qui. Il film, secondo me, è bellissimo, è stupendo, va visto. Per quanto ci siano delle cose, un po' non è. Ma di cui parleremo nella parte spoiler. È un film pedagogico per certi punti di vista, molto istruttivo per certe cose, che fa pensare anche a determinate cose. E niente, noi passiamo alla parte spoiler. Do un po' di tempo per uscire. 3, 2, 1. Allora, mi è dispiaciuto prima di tutto non sentirlo, potevo dirlo anche prima questo fatto, effettivamente, però mi è dispiaciuto non sentirlo in lingua originale, perché c'era Isabella Rossellini, la ex compagna e ex musa di David Lynch, ma anche figlia di Rossellini, della Bergman, ovviamente. Però, se chiudo gli occhi e pensi a Isabella Rossellini, vedo lei e David Lynch. E Lynch, che in realtà ritorna in questo film. Voi direte, ma come? Ma come, David Lynch? In realtà sì, ma per un semplice motivo. Alla fine, quando lui sottolinea un po' la forza della comunità, la forza della famiglia, la forza di essere una famiglia, lui è costretto, chiaramente, essendo da solo con la nonna, è costretto a usare la planetaria per scuotere quell'albero, no? È costretto a usare la planetaria per scuotere l'albero e andare a prendere i frutti e tutto, perché chiaramente non ce la fa da solo. Invece con la famiglia, dico, non mi serve più quella planetaria, c'è quell'inquadratura bellissima della planetaria che gira a vuoto da sola e l'orro sull'albero che saltano sul ramo per far cadere il frutto. Quella è stupenda e che c'entra David Lynch? Una storia vera, il film di David Lynch, quello con Robert Farnsworth, la storia vera di Alvin Strait, quello lì, dove lui prende tanti rami, li lega insieme e dice se provi a spezzarli uno da solo si spezza, se provi a spezzarli tutti insieme non si spezzano. Questa è la famiglia, la scena con la ragazza intorno al fuoco, non so se avete visto Una storia vera di David Lynch, ma, Dio santo, recuperatelo, perché quel film è veramente un cavolavoro. L'unico film non scritto da lui, l'unico film non scelgiato da David Lynch, ma è un cavolavoro lo stesso, ma stiamo divagando. Quindi questo concetto di comunità, questo concetto di famiglia, è una delle cose di cui si parla in questo film. Ma andiamo avanti. Oltre a questo, chiaramente, poi ci si sofferma su temi anche importanti e abbastanza... Oltre a questo, poi ci si sofferma su temi abbastanza anche importanti, quello del ruolo dei social, per esempio, della tv, ma di cui parleremo in modo più approfondito dopo. Prima, chiaramente, voglio parlare di quello che si vede più in... Non voglio parlare della solita retorica sorridi che la vita ti sorride, no? Perché Marcel Schell a un certo punto dice sorrido, perché sorridi, perché ne vale la pena. Sì, lui affronta questa vita sempre con un'autoironia, eccetera, eccetera, ma solo apparente in realtà, perché poi soffre, e lo vediamo che soffre. Quindi non mi soffermo sulla retorica sorridi che la vita ti sorride, ma il film poi, ripeto, parla di tante altre cose, parla del passare del tempo. E il passare del tempo non come il passare delle lancette, quindi il tempo materiale, no? Non tanto tempo materiale, ma tempo canonico, ecco. Giorno, settimana, mese, anno, no. Lui non percepisce il tempo come noi umani, ma si rende conto del tempo che passa dal mondo che cambia, dalle cose che cambiano con noi, e dai cambiamenti a tutti. Appunto, a lui non piacciono i cambiamenti. Mi è venuta in mente la battuta di Woody Allen in Mariti e mogli, dove dice che i cambiamenti sono la morte. Ecco, mi trovo io in parte d'accordo con questa cosa, però sono anche inevitabili. Sono inevitabili e spesso sono un momento di crescita. Cioè, la nonna muore consapevolmente, cioè nel senso decide di morire per smuovere Marcel, no? Perché altrimenti se lei fosse stata a letto, eccetera, eccetera, magari sarebbe guarita, ma Marcel non avrebbe partecipato alla trasmissione che poi gli consentirà di trovare la sua famiglia. Quindi ecco, dalle cose negative, dai cambiamenti negativi, eccetera, eccetera, o meglio, per proseguire nella vita, per progredire, si passa anche dai cambiamenti che spesso sono dolorosi. Ah, poi anche il finale, la scena dove lui è nella stanza dell'asciugatrice, no? Che gli ricorda la nonna, chiaramente, perché la nonna era sempre lì. È lì che poi è caduta e si è fatta male. E quindi lui è lì, si ricorda della nonna, ma lì si accorge anche che è lui che, cioè, il suo posizionarsi all'interno del mondo, in un certo modo, scaturisce un effetto. Di conseguenza capisce di essere parte di un tutto e non una cosa individuale a sé stante. Ed è questa una cosa importantissima, secondo me. E spesso ce ne dimentichiamo, no? Molto banalmente mi viene, mi viene in mente il fatto che si dice, no, vabbè, io sono così. No, uno poi deve anche relazionarsi con il mondo esterno. Non si è un individuo singolo, ma si è parte di un tutto. E come ci poniamo, le azioni che facciamo, anche le azioni individuali che facciamo, indirettamente hanno delle ripercussioni sul tutto. Quindi anche questo mi è piaciuto molto. E poi, una cosa che non ho detto prima, per non rovinare l'immagine, che secondo me è molto bella, è una trovata molto intelligente, il fatto di fare la pista di pattinaggio con la polvere sul tavolo. Quello anche mi è piaciuto molto, molto, molto bello. Ecco, e adesso arriviamo alla parte dolente, la parte dei social. Ecco, questo secondo me è la cosa molto, molto importante di questo film. O meglio, i social hanno un ruolo fondamentale all'interno di questo film. Chiaramente, lui usa i social, usa il fatto del video virale su YouTube perché è quello che è successo a lui, chiaramente. Quindi è come se lui, il regista, grazie alla viralità e grazie ai social, sia riuscito a portare Marcel alla notorietà sul grande schermo, la sua creazione sul grande schermo. Quindi, sì, ok. Però nella storia, lui, diciamo che scopre i suoi genitori, riesce a scoprire i suoi genitori, a ritrovare la sua famiglia, grazie ai social, grazie alla notorietà. Questa è una cosa che non mi è piaciuta moltissimo, anche perché poi... O meglio, non è questa cosa che non mi è piaciuta molto, perché ci può anche stare. Il problema è la disparità di trattamento social e televisione. Io odio i social, purtroppo io vi sto parlando da un social, ma è il social che è reputo forse più sano di tutti YouTube. Ma odio ormai tutto il modo in cui vengono usati i social come Instagram e TikTok, per esempio. Ne ho parlato molto bene nel video di Videodrome che ho fatto qua sul canale, magari se avete visto Videodrome andate a recuperare il video. dicevo, questa disparità di trattamento è un po' così, perché per me social e televisione sono entrambi una merda, cioè nel senso i media in quel senso sono per motivi diversi tutti e due una merda. Cioè, una trattazione dei media che ho trovato coerente e veritiera è quella che c'è in Gone Girl di Fincher, non so se l'avete visto o se non l'avete visto, lato la recupera filmone, ma quella lì è una rappresentazione estremamente veritiera di che cos'è la televisione, come la televisione affronta determinate cose. Quindi, però, dall'altro lato, mi è piaciuto invece come ha rappresentato i social, no? Cioè, lui pubblica il video chiedendo di... chiedendo al suo pubblico, appunto, poi questa è una cosa fondamentale che lui stesso dirà, di aiutarlo a trovare la sua famiglia. Il pubblico non fa altro che dire ah, pace, pace bene, peace and love, tra l'altro lui dice questa cosa, è normale che tu sia per la pace, cosa ti dovrei dire, viva la guerra, quindi anche questo mi trovo totalmente d'accordo, ma appunto dice questa non è una comunità, questo è un pubblico, quindi poi la gente che va lì a farsi i selfie, la gente che va davanti alla casa a fare i TikTok, i meme, anche questo pubblico anestetizzato e, come dire, obnubilato totalmente dai social, da non vedere poi quello che c'è realmente. Cioè lui fa un video dove chiede aiuto, dove chiede aiutatemi a ritrovare la mia famiglia, è una cosa anche estruggente e che una persona dovrebbe prendere a cuore, invece la gente che fa va là davanti a farsi i video col selfie stick, fai meme, io quando, il TikTok e le puttanate, oppure gente che lo insulta senza nemmeno conoscerlo, puttanate, e questo è il lato peggiore dei social, forse non nemmeno tanto il lato peggiore anche dei social, ma quanto della notorietà, e invece il lato migliore della notorietà è quello che viene mostrato dopo, quindi quello grazie alla televisione è lui che riesce a trovare la sua famiglia, grazie anche un po' al passaparola e tutto il resto. Quindi ho apprezzato molto questa cosa, questa critica diciamo ai social e in più c'è anche una piccola parte, però ci ho pensato, alla figura del documentarista. No, allora lui a un certo punto questa magari è anche una sovralettura, però mi ha ricordato un po' in parte The Diary of the Dead di Romero, cioè lui a un certo punto riprende uno scoiato che entra in casa loro, lui chiaramente è documentarista, riprende uno scoiato che entra in casa loro, ma lo sa che lo scoiato è un pericolo per loro, se mette in bocca Marcello è andato, ma nonostante ciò lo fa entrare comunque, non si spreca a chiudere la porta, poi il resto la cosa finisce in un gioco, le ridono, lui scappa nella pallina da tennis, lo scoiato se ne va e finisce tutto a taralluccio e vino, però diciamo che era pericolosa quella cosa. Ecco, ed è proprio questo, la figura del documentarista, ma in realtà proprio l'occhio della macchina da presa, il guardare attraverso della macchina da presa è un guardare più morboso e una sorta di voyeurismo più che una partecipazione, ecco, vabbè, poi questo è un discorso molto complesso, ma che viene espresso perfettamente in The Era of the Dead di Romero, secondo me, anche in tanti altri film, però in The Era of the Dead di Romero, secondo me, particolarmente bene. Questa era più una sovralettura, una cosa mia a cui ho pensato in quel momento, fate finta che non abbia detto niente. Queste erano le mie impressioni su Marcel The Shell, mi è piaciuto moltissimo, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video e niente, noi ci vediamo alla prossima.